Innanzitutto, dovremmo esserci. Allora, domenica ci sono state le elezioni nel paese forse più importante in Europa e abbiamo l'opportunità. Sento un ritorno, se per favore chiudete i microfoni. Abbiamo l'opportunità di avere un carissimo amico a cui facciamo i complimenti per il risultato, che sebbene di misura vede ancora la link nel Parlamento, nel Pundes, nel Parlamento tedesco. E lo ringraziamo ancora di aver accettato l'invito a parlare con noi, a fare un'analisi del mondo, come si usava anticamente, ma soprattutto per condividere con lui questa travagliata, ma alla fine è positiva, tutto sommato l'esperienza che la link ha avuto e che è ancora presente nel Parlamento. Una sinistra tedesca che, seppur nelle difficoltà, è riuscita nell'impresa di mantenere un presidio nel Parlamento e che un po' adesso dovrà affrontare la questione del dopo, dopo elezioni, come ci si appronta rispetto allo scenario, innanzitutto, quello del governo. La Germania esce da un bellissimo periodo di Merkel, in cui nel bene e nel male ha tenuto una barra per il paese, ma anche per l'Europa. Oggi nessuna delle forze principali da sola governa può governare e quindi anche la domanda principale, la prima domanda è come immagina che si costruisca questa alleanza per il governo in Germania. E intanto dico anche che con noi ci sono alcuni della redazione di Transform, a cui subito dopo questa breve introduzione di Heinz, darò la parola per fare delle domande e quindi poi alla fine Heinz replicherà. Intanto ad Heinz la parola, un grandissimo abbraccio da parte di tutti noi, di tutti gli italiani che con te hanno sofferto fino a notte fonda per il risultato finale. Grazie ancora Heinz. Prego. Grazie a voi. Veramente abbiamo una situazione per la sinistra tedesca molto difficile. Alla fine abbiamo, grazie ai tre mandati diretti, un gruppo parlamentare. Sì, no, sarebbe stato veramente un disastro. Non abbiamo raggiunto il 5%, solo 4,9% quasi, però grazie a questi tre mandati diretti abbiamo un gruppo parlamentare di 39 persone. Questo, diciamo, è la notizia positiva. Però dall'altro lato dobbiamo riconoscere che noi abbiamo avuto una sconfitta veramente molto grande. Abbiamo perso quasi due milioni di voti paragonato con l'altra volta e abbiamo solo 39 deputati e membri di Parlamento. Adesso invece di più di 70 l'ultima volta. Questa è la situazione com'è. Però la situazione chiaramente dopo Michael è interessante. abbiamo un panorama politico nuovo e c'è un certo ritorno dei socialdemocratici, del partito socialdemocratico, che ha vinto chiaramente, non solo a livello nazionale, anche a livello regionale, perché il partito socialdemocratico e l'SPD ha vinto anche a Berlino e anche nel Mecklenburg-Forpommern, al nord della Germania, al Mecklenburg-Forpommern con quasi 40%. Questa è stata una vittoria veramente netta. Noi come Linke, come sinistra, abbiamo raggiunto il 10% al Mecklenburg-Forpommern e il 14% a Berlino. Questo è un po' meglio rispetto alle elezioni nazionali. Dall'altro lato si deve tenere, si deve prendere in considerazione anche la sconfitta storica dei democristiani. E' veramente un risultato molto, molto male per quanto riguarda i democristiani, anche a causa che lei e loro non hanno avuto un candidato molto convincente. Amen Laschet è stato molto debole e voleva fare il successore della Merkel, però non è il successore della Merkel. Merkel era di un'altra, come si dice, di altra stoffa. Però il terzo partito sono i Verdi, come voi sapete. Hanno avuto un gran successo rispetto alle ultime elezioni, però sono stati sotto le aspettative. Volevano avere più, però sono chiaramente, il terzo partito, sono cresciuti anche i Liberali. La notizia positiva è che l'estrema destra non è cresciuta. È abbastanza stabile, sempre troppo, con il 10%, però non c'è una crescita del partito dell'estrema destra dell'AFT. Questo è un po' il quadro. Per quanto riguarda il futuro governo è molto difficile. Adesso è molto chiaro che la SPD vuole fare la coalizione con i Liberali e con i Verdi. Però questo, credo, è abbastanza difficile, perché le posizioni politiche tra questi partiti sono molto diverse. Da un lato ci sono i socialdemocratici e i Verdi e dall'altro lato i Liberali con concetti veramente, io direi, antagonisti. Perché i Liberali vogliono fare una politica pure mercato, una politica chiaramente neoliberista. Dall'altro lato anche Scholz è un neoliberale, questo è chiaro, però il Partito Socialdemocratico è andato un po' più a sinistra. E per questo loro vogliono avere un'altra politica, vogliono avere, per esempio, vogliono introdurre un salario minimo di 12 euro. Questo è molto di più rispetto a questo attuale che è sotto 10 euro e questo i Liberali certamente non vogliono. Anche, è chiaro che tutti parlano della necessità di combattere il cambio climatico e per cambiamento climatico, però, ma dall'altro lato è chiaro, con concetti molto diversi, molto diversi. E per questo credo che sia abbastanza difficile di formare questo governo, si vedrà. Adesso è chiaro che i democristiani non vogliono formare un governo adesso. Hanno detto che la sconfitta non offre la possibilità di fare il governo. All'inizio era un po' diverso, però adesso hanno detto che vediamo cosa succede con il tentativo da parte della SPD di formare il governo con i Verdi e con i Liberali. E vediamo questo. Dall'altro, io vorrei menzionare anche un altro fatto che è stato molto positivo, questo è stato il referendum a Berlin. A Berlin, a Berlin, il referendum per quanto riguarda le case, c'è questa iniziativa Deutsche Wohnen und Eignen, espropriare Deutsche Wohnen, cioè espropriare i grandi gruppi immobiliari per l'obiettivo di avere un social housing. Questo referendum ha avuto gran successo perché la maggioranza, il 56%, hanno votato sì, vogliamo farlo. E la conseguenza di questo risultato è che il Senato di Berlino, allora il governo di Berlino, deve adesso preparare una legge, come farlo. Non è costretto di farlo, però deve preparare una legge. E abbiamo la contraddizione che questo referendum ha avuto gran consenso, gran successo, però dall'altro lato hanno vinto i socialdemocratici a Berlin che non sono molto a favore di questo referendum. Ci sono queste contraddizioni sociali che ci sono, però è un fatto positivo. Tutto sommato è molto chiaro che noi siamo confrontati con una situazione abbastanza difficile per la sinistra e noi dobbiamo fare un ragionamento veramente serio che va nel merito delle cose per analizzare questa situazione. Vorrei dire anche che il risultato così male si è dovuto anche alla situazione di una concorrenza tra i cristiani e i socialdemocratici alla fine, perché alla fine la differenza tra i socialdemocratici e i cristiani era molto poco e così c'era anche il cosiddetto voto utile, vuol dire per evitare una vittoria di Laschet e dei democristiani. Molti che normalmente votano la sinistra hanno votato questa volta per il partito socialdemocratico. E per questo risultato è chiaro che una possibile coalizione rossa-rosso-verde non è più possibile perché noi non abbiamo avuto il successo necessario. Così. Grazie Heinz. Sappiamo purtroppo benissimo che cosa vuol dire il voto utile e do subito la parola a Franco Ferrari che per noi è il nostro inviato estero e quindi segue tutte le vicende in Europa e oltre l'Europa. Sì, un inviato che non si muove mai da casa, ma va bene così, ormai in mezzo e consentono di seguire tutto. No, io volevo sullevare, volevo porre un problema perché leggevo il Corriere della Sera, che tu sicuramente conosci, ma è il giornale conservatore un po' più autorevole della media in Italia, che faceva questo titolo ieri, l'Est, l'Est è tedesco, ora è ricco ma si sente escluso. E la tesi molto sintetica era che la situazione economica e sociale è molto migliorata. Ci sono stati investimenti, alcune città grosse, Dresde, eccetera, si sono rafforzate economicamente, ma c'è ancora un problema di identità, cioè si sente ancora i cittadini, molti cittadini della Germania orientale si sentono di serie B dentro l'unificazione. Allora, siccome la Linke nasce dall'esperienza del PDS, del Partito dello Socialismo Democratico, che era fortemente radicato nella Germania orientale, oggi i numeri del consenso alla Linke sono notevolmente calati nella Germania orientale. Adesso ho visto che si arrivava al 20-30%, adesso solo in due lender dell'Europa orientale si supera l'11%, mi pare, non so se Berlino o la Turingia, credo. E quindi effettivamente c'è stato questo cambiamento socio-economico all'est e questo può avere un'influenza nel calo elettorale, diciamo quello più strutturale, meno legato a quello che dicevi tu, il voto utile dello spostamento dell'ultimo minuto, ma più strutturale sul calo della Linke all'est? Sì, rispondo subito? Sì, se vuoi facciamo botta e risposta, dai. Sì, no, questo è un fenomeno già da anni che noi perdiamo all'est, non siamo più questa espressione dell'est come una volta, e per questo c'è un calo continuo per quanto riguarda i nostri voti. In più c'è adesso l'estrema destra, l'AfD, che adesso esprime anche il malumore dei cittadini dall'est che si sentono molto spesso come cittadini di seconda classe, anche perché ancora abbiamo delle condizioni di vita e di lavoro che non sono quelle dell'Ovest. È chiaro che alcuni centri, alcune grandi città, c'è anche successo economico, c'è uno sviluppo economico molto forte, però in la campagna questo non è il caso. è il caso. Abbiamo sempre una situazione molto difficile per tanta gente. Per questo c'è grande malumore e i cittadini dell'est si sentono come cittadini di seconda classe. Però noi come sinistra non esposiamo più principalmente questo sentimento dei cittadini dell'est e questo è un problema per la sinistra. Però per quanto riguarda le ultime elezioni, recentemente abbiamo perso dappertutto. Abbiamo perso all'est, abbiamo perso anche all'ovest. Questo è stato un fatto nuovo perché negli ultimi tempi abbiamo avuto qualche successo anche all'ovest, in particolare per quanto riguarda i giovani, ma questa volta non era. è il caso. Grazie. Abbiamo con noi anche Francesca, la caita, a cui do subito la parola. Grazie, si apri il microfono. Ecco qua l'audio. Ora ci si sente. Ecco, sì. Allora, si è parlato di voto utile. A me ha colpito molto, nei flussi di uscita dalla Linke, i flussi che sono andati non soltanto all'ESPD, ma anche, oltreverdi, anche liberali. Cioè, è una cosa che quando hanno pubblicato quella infographic con i voti in uscita dalla Linke, è stata una cosa che ha sorpreso parecchie persone e ha sorpreso anche me. Quindi, evidentemente, si tratta ormai di un elettorato molto fluido, praticamente liquido, che è un po' difficile, diciamo, trattenere con, appellandosi, per esempio, a una storia ideologica. E anche poi, anche tu mi hai confermato, no, questa, diciamo, contraddizione a Berlino, dove si è vinto il referendum per la casa, ma al tempo stesso ha vinto l'ESPD, che è contrario a questo referendum. Siccome io penso che una delle grosse difficoltà della sinistra italiana sia comunicare con un elettorato post-ideologico, come pensate di comunicare e entrare in contatto con questo elettorato che a me pare già molto, molto, molto fluido? Io credo veramente che sia un gran problema, però, per quanto riguarda i flussi, sono stato più di un milione in direzione dell'ESPD e dei Verdi. E questo esprime anche chiaramente che questo voto è utile, veramente, veramente. Però, dall'altro lato, abbiamo una situazione che, abbiamo una situazione in cui la gente non è così, di una certa etiologia, sono più, diciamo, variabili e cambiano anche il voto, eccetera. Il problema nostro è di avere un messaggio chiaro politicamente. Noi abbiamo come partito, siamo un partito molto plurale, posizioni molto diversi e manca veramente una strategia chiara. E in più ci sono questi problemi, questi querelli interni, in particolare nelle ultime settimane, tra quelli che difendono la diversità e dicono che questa è la prima cosa e le altre che dicono no è la questione sociale. Questo è anche un gran problema che noi abbiamo avuto una situazione in cui queste due posizioni sono state opposte. Non devono essere posizioni opposte, però era così anche nel dibattito del partito. E questo non è stato molto buono. E in più, da quanto riguarda, per esempio, la possibilità di fare un governo centro-sinistra, non c'era negli ultimi anni un progetto politico convincente. Questo è stato anche un problema. Alla fine chiaramente si è fatta la campagna per fare questa coalizione, però il successo era il successo dei socialdemocratici e anche dei Verdi, è nostra sconfitta. E questo dobbiamo ragionare su questo. Fino adesso è troppo presto di avere un'analisi convincente, però dobbiamo fare questa analisi. ma è molto chiaro che noi dobbiamo avere un messaggio politico più convincente. Grazie, Heinz. Per ultimo c'è Roberto Musacchio. Sì, guarda, voglio un attimo anch'io chiosare, insomma, su questa questione del voto utile, perché noi in Italia abbiamo sempre anticipato, Heinz, e quindi voglio, diciamo, ragionare su questo, perché quando uno a Berlino vota proprio per l'esproprio delle case, insomma, a favore del referendum, e poi politicamente vota contro, per uno che è contro questa cosa che lui invece chiede socialmente, io non so se questo è un voto post-ideologico, Francesca. Sicuramente è un voto che separa la propria convinzione, il proprio interesse materiale dalla espressione politica. E noi siamo pieni di questa questione qui, Heinz. Cioè, noi oramai sono 30 anni, più o meno, che le persone non votano per i loro interessi, non dico per la loro ideologia, ma per i loro interessi, ma votano posizioni politiche che poi non fanno il loro interesse. Ma lo fanno in nome di una cosa grande, importante in Europa, che è la governabilità. E in questa fase di pandemia, ulteriormente, questa storia della governabilità si è imposta. Se io capisco in qualche modo, vediamo se ho letto bene le questioni, finché era sicuro che c'era Merkel, la gara per chi governava sostanzialmente non c'era. E quindi uno votava la Linke per esprimere direttamente anche i propri interessi pesassero nella politica. Tanto governava Merkel. In questo momento, tolta la Merkel, sono diventate possibili alcune opzioni. francamente quella della sinistra mi è sembrata fuori gioco, insomma, sostanzialmente difficilmente realizzabile nel cuore di questa Europa, insomma. E quindi hanno corso questi quattro. I verdi a un certo punto si sono illusi e poi la corsa è stata a due e quindi questo ha, come si può dire, penalizzato politicamente è creato una scissione tra quello che uno pensa, voto a Berlino per il referendum, e quello che uno vota, però poi voto per una, perché è una donna, quella che ha vinto a Berlino dell'Espede, che è contro il referendum. Detto questo, che vi colloca in una situazione più tipica dell'Italia, ad esempio, io comincio a avviarti una seconda tipo di domanda. L'altra volta che la PDS fece il 4,6%, se non mi sbaglio, voi avesse una grande invenzione, intuizione, noi ci partecipiamo in parte anche dall'Italia, che è quella di non essere più la rappresentanza dell'Est dentro l'unificazione, ma di lanciare la sfida della Link. E cioè, avevate un'altra idea complessiva della Germania, cioè non rappresentavate solo, e voi rappresentavate in modo maggioritario l'Esse in quel momento. E questa è stata la sfida. Io penso che tutto sommato, alla fine, è stata una sfida importante che ha tenuto fino a quando c'è stato questo quadro. Adesso nel nuovo quadro fatica. Ecco, che idea si può avere adesso? è chiaro che dovete discutere, insomma. Io ti dico la mia. Io penso che se non abbiamo una capacità di modificare complessivamente l'assetto europeo, uno per uno ci sconfiggono tutti. Sì, ci sono momenti in cui riesci ad emergere, perché sei il partito dell'Est della Germania, perché sei il Sinn Fé nel partito della questione irlandese, perché sei Siriza il partito della Grecia contro l'austerità. Oppure sei una parte della sinistra, come in Spagna, Portogallo, che riesce a incidere, ma alla fine il saldo politico è molto difficile. Quindi ti chiedo, anche perché sei anche il presidente della sinistra europea, se forse questo elemento, cioè di una nuova sfida che dalla Linke possa nascere per avere un nuovo tipo di soggetto su questa dimensione, dopo questa sconfitta. il problema è che c'era la speranza che ci sarà anche un influsso, un impatto sulla situazione europea nel caso di una di una vittoria dei socialdemocratici assieme alla sinistra. Questo sarebbe di formare un governo centro-sinistra, sarebbe stata una speranza anche per incidere sulla politica europea, perché adesso abbiamo, per quanto riguarda la politica europea, ci sono anche delle contraddizioni interessanti che con il recovery fund si è fatto una politica un po' differente rispetto alla politica neoliberalista di austerità. Per la prima volta si dà soldi direttamente agli stati e si è sospeso anche il patto di stabilità e di crescimento. Sono delle cose che per noi, per la sinistra, noi dobbiamo accanciare a queste cose per fare permanente questo cambiamento. Per questo sarebbe stato un altro risultato in Germania e credo che sia stato veramente utile. Adesso c'è sempre in Europa la speranza con un governo social, con un cancelliere social democratico e un'altra cosa forse rispetto al governo di Merkel. Però in una coalizione con i verdi e con i liberali è molto difficile che cambia molto anche per quanto riguarda l'Europa. Però io sono d'accordo che noi dobbiamo discutere anche la politica della sinistra in Europa, è chiaro, e dobbiamo avere delle analisi per quanto riguarda la situazione nei singoli paesi europei. Abbiamo situazioni molto differenti, abbiamo per esempio in Spagna e in Finlandia abbiamo anche la sinistra nel governo è un'esperienza abbastanza interessante anche, io ho parlato recentemente con Enrique Santiago e il segretario generale del partito comunista in Spagna e loro vogliono mantenere questo governo a tutti i costi perché altrimenti sarebbe la destra che va a formare il governo e anche dobbiamo un po' discutere tutte queste esperienze e dobbiamo naturalmente rafforzare la sinistra sul livello europeo, credo che questo è molto importante. Per quanto riguarda la politica della sinistra europea e di Linke abbiamo il problema che la dimensione europea non gioca un gran uolo nella politica della Linke molto nazionale molto diretta ai fatti interni questo secondo me è un errore un errore dobbiamo cambiare questa situazione abbastanza difficile però sono d'accordo che adesso abbiamo una situazione critica per quanto riguarda la sinistra europea però io sono convinto che per quanto riguarda la situazione dell'Unione europea che sta sempre in una crisi profonda ci offre anche delle possibilità per la sinistra per propagare un'altra politica o una politica alternativa però noi dobbiamo dobbiamo avere un profilo politico più chiaro e anche per quanto riguarda la cooperazione tra le forze della sinistra dobbiamo fare di meglio e così è una situazione dove ci sono delle opportunità che noi dobbiamo coglierle ti ringrazio Heinz una una domanda da parte mia diciamo sullo scenario nazionale tedesco è verosimile pensare che come dici tu avendo questo quadro politico alla fine social democratici e sede u ritornino a una grossa coalizione a parte invertite è possibile immaginare che il nome appunto della stabilità europea e del e del governo dei processi che vedono integrazione europea al centro diciamo anche delle politiche nazionali alla fine la decisione di mantenere un rapporto con la seduzione prevalente per i social democratici io non credo che sia possibile una grande coalizione tra i democristiani e i socialdemocratici perché fino adesso i socialdemocratici hanno pagato un prezzo abbastanza alto per fare la coalizione con i democristiani e per questo credo che non lo fanno non lo fanno neanche nell'interesse nazionale neanche nell'interesse di essere più forte in Europa non lo fanno io credo che questo è veramente escluso abbiamo certamente una situazione nuova quanto loro non riescono a formare il governo con i liberali con i verdi vediamo però io escludo una grande coalizione perché credo sarebbe il suicidio della SPD grazie non so se ci sono altre domande Franco Francesca Roberto una felicitazione una richiesta di parere questo mese a settembre c'erano vari appuntamenti elettorali anche molto diversi in paesi ovviamente con peso diverso l'Islanda sabato la Norvegia prima le amministrative in Portogallo poi l'Austria insomma quindi oltre ovviamente la Germania per cui forse è difficile diciamo trarre una una lezione complessiva su una tendenza di fondo però volendo provare a forzare un po' le cose la mia impressione è un po' questa che a differenza che dopo la crisi del 2008 2009 in cui anche per le politiche di austerità diciamo si era aperta una si sono aperti degli spazi sia sulla sinistra radicale sul nostro versante come sulla destra l'estrema destra populista il fatto che questa crisi del covid finora sia stata gestita in termini diversi cioè sospendendo le regole dell'austerità dando soldi sostanzialmente per cercare di attenuare l'impatto del del covid consente in misura maggiore alle forze diciamo dell'establishment un po' più a sinistra un po' più a destra di mantenere un consenso di fondo quindi credo che questo ci sia però mi sembra anche che non emerga né dal voto tedesco e dalle varie posizioni né da quello che succede in Francia né anche da altre realtà una come dire visione forte su come i paesi europei nel loro complesso possono affrontare un quadro mondiale che diventa molto più complicato Cina Stati Uniti una possibile nuova guerra fredda tutti gli aspetti economici che ci sono si è visto la vicenda Francia Australia Sottomarini eccetera quindi da un lato l'establishment riesce a mantenere il consenso ma non riesce in realtà a tirar fuori qualche idea forte su come l'Europa deve affrontare le contraddizioni che ci saranno ambientali economiche eccetera questo mi sembra un po' il quadro in questo momento io sono molto d'accordo con te credo che fino adesso non siamo in grado veramente di affrontare le grandi sfide geopolitiche perché abbiamo veramente un quadro molto nuovo per quanto riguarda la situazione globale la situazione mondiale e neanche risolto anche la questione come quale politica dopo la pandemia del Covid c'è sempre anche la questione chi va a pagare per la crisi eccetera queste sono questioni aperte adesso hai ragione che con il Covid con la pandemia è stato a favore dell'establishment a favore dei governi fino adesso però si deve domandarsi quale politica si deve fare dopo perché le conseguenze sono drammatiche socialmente con perché il divario sociale diciamo la polarizzazione sociale è aumentato e anche per quanto riguarda l'economia ci sono delle conseguenze veramente diciamo gravi e tutte queste cose e in un diciamo quadro globale che sta cambiando abbiamo veramente un gran problema per quanto riguarda per esempio no diciamo così rischiamo un nuovo guerra fredda con questo conflitto commerciale tra gli Stati Uniti e la Cina per esempio e fino adesso Europa non è veramente in grado di affrontare questa situazione è un'altra diciamo questione grande per la sinistra e credo che sarebbe anche molto bene di discutere tra la sinistra tra di noi questa situazione geopolitica che veramente ci confronta con nuovi problemi e nuove sfide grazie Roberto e Heinz ti faccio ti riporto la tua natura di sindacalista perché tu vieni dal mondo sindacale ti do un dato ho visto l'altro giorno la situazione del monte salari nei principali paesi diciamo Germania Francia Italia ti dico questi tre nell'anno della pandemia cioè lo scorso anno beh voi avete perso credo l'uno per cento del monte salari quindi praticamente quasi nulla la Francia qualcosina di più l'Italia ha perso quasi il dieci per cento del monte salari sette otto per cento e tieni conto che il monte salari tedesco è praticamente il triplo del monte salari italiano ed è diciamo quello italiano è un terzo inferiore a quello francese ecco lo dico per farti invece una domanda tu pensi che noi potremmo avere una battaglia generale della sinistra europea su un salario minimo che possa caratterizzarci adesso mentre parlavo con voi prima stavo al telefono una giornalista ha detto ah sono impegnata perché in Spagna stanno finalmente varando al salario minimo in Italia la discussione c'è ed è molto pericolosa perché il minimo rischia di essere minimo 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 ma se noi facessimo una battaglia in cui il minimo è quello tedesco no scherzo ma insomma diciamo che che ci tiene insieme che il minimo è quello che nasce dalla lotta dei lavoratori forse faremo un passo in avanti che dici? Io credo di sì veramente il salario minimo è un soggetto molto importante adesso e viene discusso anche con i sindacati europei voi sapete che c'è un contrasto anche per quanto riguarda il salario minimo tra i sindacati nordici di scandinavi e il resto perché i sindacati nordici sono stati contro il salario minimo perché temono che il loro sistema sociale sia danneggiato di questa cosa adesso c'è un certo compromesso però c'è sempre questa differenza dall'altro lato adesso c'è anche una nuova direttiva da parte dell'Unione europea per quanto riguarda il salario minimo secondo me è un punto di patenza e per questo si deve intensificare il dibattito sopra il salario minimo di incidere anche sulla situazione europea ci vuole anche per noi è stato per tanti anni hanno tutti detti veramente siamo contro però alla fine è politicamente accettato anche in Germania il salario minimo e anche accettato che si deve aumentare questo salario minimo perché fino adesso di meno di 10 euro è troppo poco questo è chiaro anche i 12 non sono molto però sarebbe un passo in avanti noi come sinistra vediamo 13 però questo non è una grande differenza però sono d'accordo con te che la battaglia rispetto a un salario minimo a livello europeo sarebbe un punto di diciamo di un punto unificante per quanto riguarda la sinistra sarebbe una 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 possibilità un'opportunità di rinforzare anche la cooperazione con i sindacati a livello europeo grazie Francesca volevo anche riallacciarmi a quello che diceva Roberto Musacchio ma su un altro argomento ora sembra che la Linke come anche ricondazione in Italia e altre realtà insomma di sinistra in Europa siano rimasti gli unici a fare una campagna insomma a sostenere per esempio l'antimilitarismo contro la Nato e i verdi sono si sono proprio appiattiti su una politica estera di chiamiamo di regime insomma perché proprio sono conformisti sono molto conformisti da questo punto di vista ecco che possibilità ci sono di rilanciare a livello europeo una campagna antimilitarista per l'uscita dalla Nato abbiamo fatto quando c'era il vertice della Nato il 13 14 di giugno a Bruxelles abbiamo fatto un contro verdice e però dobbiamo rafforzare questo movimento fino adesso il ruolo non è molto forte però è veramente necessario però da noi adesso è successo che noi come sinistra siamo stati sempre contro la guerra in Afghanistan e alla fine quando noi abbiamo votato a favore dell'intervento del militare dei soldati tedeschi per salvare la gente questo è stato veramente a rovescia noi siamo stati accusati di non di non voler aiutare alla gente però è assurdo perché sono stati loro che hanno deciso di fare questo intervento militare in Afghanistan hanno fatto per 20 anni questa guerra e noi come sinistra sempre contro quello che volevo dire è veramente è necessario di rafforzare di rafforzare il movimento antimilitare il movimento per la pace fino adesso troppo debole in mia opinione e dobbiamo perché è la situazione in cui si deve discutere su un nuovo sistema di sicurezza collettiva non quello della Nato un'altra un'altra nativa a questo credo che questo veramente molto necessario sarebbe un altro dipartito molto importante Sì ti ringrazio questo appello e ti ringrazio di aver partecipato ricordo che il quattordi il quindici il sedice il diciassette di ottobre a Barcellona c'è il congresso appunto per la pace per un nuovo movimento per la pace e quindi noi sono sicuro ci incontreremo ancora su queste su queste barricate e ancora una volta grazie ad AINZ per aver accettato l'invito e per aver un po' chiacchierato con noi e siamo sicuri che poi ci sarà ancora un'occasione per rincontrarci e per fare un po' il punto comunque da parte nostra un grandissimo abbraccio una grandissima solidarietà per i compagni tedeschi che hanno saputo comunque mantenere un presidio di democrazia dentro la Germania e siamo sicuri che questo sarà un primo passo per invertire una rotta in Germania e ci auguriamo in Europa necessario appunto per cambiare le politiche di liberismo che ci hanno prodotto questi disastri in cui viviamo grazie ancora a tutte e a tutti e grazie AINZ e alla prossima sì grazie anche della mia parte è sempre un piacere di discutere con voi e continuiamo ciao 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 a tutti grazie ancora ciao